Pino te lo devi tagliare No, 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 no Ti vedranno un sacco di bambini E allora? Con quel pizzetto sembri vecchio Che? No Ci saranno anche un sacco di donne Che sembri più brutto con quel pizzetto Perché ci stanno anche gli uomini Non ti preoccupare, agli uomini ci penso io Dopo il grande successo della scorsa edizione Torna Il Mercante in Fiera Prossimamente su Italia 1 Ho permesso Ci vediamo